Uomini e donne, senza trucco si vede che sei uomo, Andrea Nicole Conte risponde alla cattiveria del web. Andrea Nicole Conte, extronista di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ha risposto ai numerosi messaggi offensivi che ha ricevuto su Instagram. Questi sono principalmente legati al fatto che la ragazza sia nata uomo. All'età di 15 anni ha iniziato il percorso di transizione in donna, concludendolo circa 8 anni fa. Buongiorno, un altro buongiorno struccata, senza filtri e con la pelle lucida da crema. Come piace a noi, ha esordito la 30enne, introducendo così la questione. Devo dire che i messaggi che ho pubblicato ieri, per quanto io non gli dia peso, li pubblico per far vedere come bisognerebbe rispondere a queste persone. Li pubblico più per consolazione verso il prossimo che verso me stessa. Però diciamo che hanno aperto delle parentesi abbastanza interessanti e vorrei approfondire. La milanesi è dunque entrata nel merito. Punto primo, il messaggio in sé. Se tu apri il messaggio con la premessa scusa non vorrei offenderti o perdonami ma o qualunque cosa di questo genere. Vuol dire che tu sai già che il tuo è un messaggio potenzialmente offensivo per la persona che lo riceve. Nel momento in cui te ne rendi conto i due scelte, o fai la persona per bene e non mandi questo messaggio lo riformuli in modo che sia meno offensivo. Nessuno te l'ha chiesto e nessuno morirà senza il tuo messaggio in cui dici che ho i baffi. Che poi appena li trovo ti faccio sapere. Andrea Nicola ha quindi lanciato un messaggio per sensibilizzare i suoi followers. Che poi io sono della politica del non me ne fotte proprio però tanta gente ci rimane male per queste cose. Adesso si parla di cavolate perché si parla dei baffi, nulla di trascendentale o nulla di importante veramente. Però per tante persone è un disagio vero e queste tante persone, udite, udite, sono donne. Donne vere, quelle che piacciono a voi, quelle nate donne, capite. Ricevere un messaggio del genere può essere veramente lesivo, perché magari è una loro insicurezza. Un problema che affrontano da anni, a livello ormonale. E' per questo che poi non capisco questi messaggi. Perché non sai niente della persona che è dall'altra parte se non quello che ti viene mostrato. E quello che ti viene mostrato è proprio poco per azzardare commenti come questo. Non sai come potrebbe essere la reazione, cosa potresti creare o causare dall'altra parte. Quindi perché farlo? Non sai come potrebbe essere la reazione, cosa potrebbe essere la reazione. Non sai come potrebbe essere la reazione, cosa potrebbe essere la reazione. Grazie. 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 Grazie.